Buongiorno a tutti sono Pierpaolo Bellucci coordinatore didattico del Centro Studi Pesaro volevo condividere insieme anche al mio titolare Giovanni Lamedica la grande soddisfazione che abbiamo riscontrato nell'investire in Rossini TV con uno spot con un'intervista perché abbiamo riscontrato subito un aumento nei contatti nelle telefonate di famiglie che erano intenzionate a far recuperare anni scolastici ai propri figli oppure a adulti che volevano conseguire il diploma o ancora famiglie che cercavano assistenza universitaria per i loro figli abbiamo diciamo avuto una certa riconoscibilità in città alcuni ci hanno fermato dicendo ti ho visto su Rossini TV e questo è stato sicuramente un ottimo investimento e anche una grande soddisfazione tutto questo è Centro Studi Pesaro sapere saper essere saper fare